Da qui in avanti innanzitutto continueremo con le assunzioni perché c'è una coda anche per il prossimo anno, l'investimento fatto in tecnologie è molto significativo, oltre 200 milioni, anche questo avrà la sua implementazione perché una cosa è impegnare una cifra, un'altra è vederla realizzata, anche se già oggi possiamo contare su diverse nuove tecnologie e quindi ci aspettiamo un miglioramento di risultato, l'impegno continua in maniera molto forte anche sul tema delle risposte d'attesa perché è il modo con il quale possiamo catturare sempre più marchigiani la loro sanità. Questo primo risultato, questi 8 milioni e 8 guadagnati, sono per me una grande spinta, un segno di fiducia su quale continuare a lavorare. La novità è quello di rendere più facile per il cittadino accedere alle liste d'attesa, per quello giovane con l'uso delle nuove tecnologie direttamente in rete, grazie alla visita dematerializzata con un codice si potrà fare questa operazione senza chiamare un call center o andare ad una cassa e per i più anziani un lavoro che stiamo facendo molto importante con le farmacie in modo che in farmacia si possa avere la prestazione che oggi dà la cassa dell'ospedale è un modo per utilizzare un luogo già molto frequentato dalle persone, diffuso nel territorio pensiamo in questa maniera di rispondere un po' a tutti, sia alle generazioni di quelli un po' più grandi, sia quelli più giovani. Questo è per noi uno stimolo, gli 8 milioni e 8 sono un risultato che ci incoraggia ad andare avanti sappiamo che dal giorno dopo per molti metteranno in dubbio anche se sarà che è vero o che non è vero la diffidenza è proverbiale in questo caso, si tratta di continuare così, di insistere negli anni di utilizzare questi strumenti che facilitano al cittadino nell'accesso alla risposta sanitaria continuare a qualificare le strutture, investire nelle infrastrutture, tutte scelte che insieme dovranno scalfire questa immagine che ormai porta alcuni a rivolgersi direttamente fuori regione sapere che dentro la regione c'è una sanità di buona qualità alla quale è facile accedere.